I carabinieri del nucleo investigativo di Catania, squadra Lupi, sono stati impegnati in un servizio volto al contrasto dei fenomeni delinquenziali connessi agli stupefacenti, nell'ambito del quale hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga un 28enne catanese pergiudicato per gli stessi reati ritenuto contiguo al sodalizio criminale Nizza e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nella circostanza i carabinieri a seguito di un'articolata attività info-investigativa si sono recati presso l'abitazione del 28enne nel quartiere San Cristoforo dove al termine della perquisizione domiciliare hanno recuperato ben nascosti nel forno e in un mobile della cucina 55 grammi di marijuana del tipo amnesia nonché un bilancino di precisione e materiale vario da confezionamento. La sostanza stupefacente sequestrata è stata sottoposta ad analisi di laboratorio i cui risultati hanno consentito di stimare in circa 320 le dosi ricavabili. Le ricerche nella casa hanno poi altresì permesso di rinvenire in un mobile della camera da letto una mazzetta di banconote di vario taglio per l'importo complessivo di 225 euro ritenute provento dell'attività illecita. Il 28enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che sono stati confermati dal giudice all'esito dell'udienza di convalida.